Noi, gli studenti della terza A, della terza B e della terza C, vi stra-ringraziamo per questo premio e con la presente vogliamo dirvi che, due punti, ci super dispiace non essere lì con voi, ci arci onore a ricevere questo premio e soprattutto... Ma qua non mi avete scritto come continua! E soprattutto non vi libererete di noi fino a che non raggiungeremo l'età della patente. Cari amici del Sotto 18 Film Festival, da Peter Pan in persona e dalla Scuola Media Luciani di Ascoli Piceno, un grande abbraccio e un buon festival!